Chi è la ragazza inglese? Alla prossima! Chi è la ragazza inglese? Io? Luigi! Perché non se lo ricorda? Non mi dico 5 anni venese Ho sentato il mio Io è stato 5 anni No, no, io sono stato 5 anni 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Io ho costante condizioni Vabbè, lui è più bastardo, lui è più bastardo, perché da piccolo ti è rifatto il bagno con la Serena, bastardo.